Tra Gaia Gigli e l'ex protagonista di Uomini e Donne c'è un flert? Ecco cosa è emerso sul profilo della corteggiatrice di Daniele Paudice. Daniele Paudice, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Appena è arrivato in studio, si è fatto subito notare. Soprattutto per la sua schietta personalità. Ha infatti preso immediatamente in mano la situazione, spiegando di voler eliminare, nella prima puntata, delle ragazze. Non aveva visto, da parte loro, un sincero interesse nei suoi confronti. Viene da Napoli e ha 33 anni, ma ha vissuto 6 anni a New York. Negli Stati Uniti si è affermato nel settore della moda. Ha deciso di partecipare al programma perché vuole innamorarsi e vivere una bella storia d'amore. Daniele ha iniziato alcune conoscenze con delle corteggiatrici, per poi soffermarsi maggiormente su Marika e Gaia. Con quest'ultima la frequentazione, nonostante gli alti e i bassi, sta procedendo abbastanza bene. Nelle ultime ore, però, sul conto della corteggiatrice è spuntato fuori, sui social, un leak e sospetto, arrivato da un amatissimo ex protagonista di Uomini e Donne. Uomini e Donne. Brutto colpo per Daniele Paudice. Spunta un leak e sospetto sul profilo di Gaia Gigli. Gaia Gigli è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice. Ha iniziato, da qualche settimana, a conoscere il tronista che si è mostrato molto interessato. Nelle ultime ore, però, sul profilo Instagram della giovane, è emerso un leak e sospetto, da parte di un ex protagonista del programma, ovvero Armando Incarnato. Un dettaglio che ha fatto subito insospettire i follower, che hanno insinuato una possibile conoscenza tra i due. Tra l'ex cavaliere e la corteggiatrice non c'è assolutamente niente. Il leak e conferma solo che Gaia, già nel 2020 visto che la data della foto non è recente era già abbastanza popolare sui social. Tanto da essere nota allo stesso Incarnato. Anche se, al momento, l'uomo non la segue. Sono però migliaia le persone sul suo profilo Instagram, e dopo il suo arrivo ad Uomini e Donne, il numero è sicuramente aumentato. Gaia è giovanissima. Ha 25 anni e viene da Milano. Nella vita è mamma di un bambino e lavora come estetista. Dopo aver fatto il suo ingresso in studio, ha raccontato che dopo aver visto il video di presentazione di Daniele, ne è rimasta particolarmente colpita. Mi ci sono ritrovata in alcune cose che hai detto. A primo impatto risulti st asterisco 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 asterisco. Ed è la stessa cosa che dicono a me. Poi, quando mi conoscono, capiscono che sono l'esatto opposto. Gaia non ha nascosto il suo interesse per il giovane e anche il tronista ha speso per lei. All'inizio, delle belle parole.